frammento apocrifo di stratone dall'amsaco della origine del mondo le cose materiali siccome le periscono tutte e danno fine così tutte ebbero incominciamento ma la materia stessa di uno incominciamento ebbe cioè a dire che ella è per sua propria forza abeterno impero che se dal vedere che le cose materiali crescono e diminuiscono e all'ultimo si dissolvono conchiude si che elle non sono per sé né abeterno ma incominciate e prodotte per lo contrario quello che mai non cresce né scema e mai non perisce si dovrà giudicare che mai non cominciasse e che non provenga da causa alcuna e certamente in un modo si potrebbe provare che delle due argomentazioni se questa fosse falsa quella fosse pur vera ma poiché noi siamo certi quella esser vera il medesimo abbiamo a concedere anche all'altra ora noi veggiamo che la materia non si accresce mai di un'ezzandio menoma quantità niuna ancomenoma parte della materia si perde in guisa che essa materia non è sottoposta a perire pertanto i diversi modi di essere della materia i quali si vengono in quelle che noi chiamiamo creature materiali sono caduchi e passeggeri ma in un segno di caducità né di mortalità si scuopre nella materia universalmente e per ognuno segno che ella sia cominciata né che ad essere le bisognasse oppur le bisogna alcuna causa o forza fuori di sé il mondo cioè l'essere della materia in un cotal modo è cosa incominciata e caduca ora diremo della origine del mondo la materia in universale siccome in particolare le piante e le creature animate ha in sé per natura una o più forze sue proprie che la agitano e muovono in diversissime guise continuamente le quali forze noi possiamo congetturare ed anche dominare dai loro effetti ma non conoscere in sé né scoprire la natura loro neanche possiamo sapere se quegli effetti che da noi si riferiscono a una stessa forza procedano veramente da una parte o da più e se per contrario quelle forze che noi significhiamo con diversi nomi siano veramente diverse forze oppure una stessa siccome tutto di nell'uomo con diversi vocaboli si dinota una sola passione o forza per modo di esempio l'ambizione l'amor del piacere e simili da ciascuna delle quali fonti derivano effetti talora semplicemente diversi talore ziendio contrari a quei delle altre sono infatti una medesima passione cioè l'amor di se stesso il quale opera in diversi casi diversamente queste forze dunque o si debba dire questa forza della materia muovendola come abbiamo detto ed agitandola di continuo forma di essa materia innumerabili creature cioè la modifica in variatissime guise le quali creature comprendendole tutte insieme considerandole siccome distribuite in certi generi e certe specie e congiunte tra sé con certi tali ordini e certe tali relazioni che provengono dalla loro natura si chiamano mondo ma imperciò che la detta forza non resta mai di operare e di modificare la materia però quelle creature che essa continuamente forma essaltri si le distrugge formando della materia loro nuove creature insinua tanto che distruggendoci le creature individue i generi non di meno e le specie delle medecime si mantengono o tutte o le più e che gli ordini e le relazioni naturali delle cose non si cangiano o in tutto o nella più parte si dice durare ancora quel cotal mondo ma infiniti mondi nello spazio infinito della eternità essendo durati più o meno tempo finalmente sono venuti meno perdutisi per i continui rivolgimenti della materia cagionati dalla predetta forza quei generi e quelle specie onde essi mondi si componevano e mancate quelle relazioni e quegli ordini che li governavano né perciò la materia è venuta meno in qualsia particella ma solo sono mancati quei suoi tali modi di essere succedendo in mantenente a ciascuno di loro un altro modo cioè un altro mondo di mano in mano della fine del mondo questo mondo presente del quale gli uomini sono parte cioè a dir l'una delle specie delle quali esso è composto quanto tempo sia durato fin qui non si può facilmente dire come neanche si può conoscere quanto tempo esso sia per durare da questo innanzi gli ordini che lo reggono paiono immutabili e tali sono creduti perciò che essi non si mutano se non che a poco a poco e con lunghezza è incomprensibile di tempo per modo che le mutazioni loro non cadono appena sotto il conoscimento non che sotto i sensi dell'uomo la quale lunghezza di tempo quanta che ella si sia e ciò nonostante meno ma rispetto alla durazione eterna della materia vedessi in questo presente mondo un continuo perire degli individui ed un continuo trasformarsi delle cose da una in altra perciò che la distribuzione è compensata continuamente dalla produzione e i generi si conservano stimasi che esso mondo non abbia né sia per avere in sé alcuna causa per la quale debba ne possa perire e che non dimostri alcun segno di caducità non di meno si può pur conoscere il contrario e ciò da più di uno indizio ma tra gli altri da questo sappiamo che la terra la cagione del suo perpetuo rivolgersi intorno al proprio asse fuggendo dal centro le parti di intorno all'equatore e però spingendosi verso il centro quelle di intorno ai poli è cangiata di figura e continuamente cangiasi divenendo intorno all'equatore ogni di più ricolma e per lo contrario intorno ai poli sempre più deprimendosi or dunque da ciò debbe venire che in campo di un certo tempo la quantità del quale avvenga che sia misurabile in sé non può essere conosciuta dagli uomini la terra sia piani di qua e di là dall'equatore per modo che perduta al tutto la figura globosa si riduca in forma di una tavola sottile ritonda questa ruota girandosi pur di continuo d'attorno al suo centro attenuata tuttavia più e dilatata a lungo andare fuggendo dal centro tutte le sue parti riuscirà traforata nel mezzo in qual foro ampliandosi a cerchio di giorno in giorno la terra ridotta per quotal modo a figura di un anello ultimamente andrà in pezzi i quali usciti della presente orbita della terra e perduto il movimento circolare precipiteranno nel sole o forse in qualche pianeta potrebbe si addirittura in conformazione di questo discorso addurre un esempio io voglio dire dell'anello di saturno e la natura del quale non si accordano tra loro i fisici e quantunque nuova inaudita forse non sarebbe perciò inverosimile congettura il presumere che il detto anello fosse da principio uno dei pianeti minori destinati alla sequela di saturno indi appianato e poscia traforato nel mezzo per cagioni conformi a quelle che abbiamo dette della terra ma più presto assai per essere di materia forse più rara e più molle cadesse dalla sua orbita nel pianeta di saturno la quale con la virtù attrattiva della sua massa e del suo centro sia ritenuto siccome lo vediamo essere veramente dintorno ad esso centro e si potrebbe credere che questo anello continuando ancora a rivolgersi come pur fa intorno al suo mezzo che è medesimamente quello del globo di saturno sempre più si assottiglie di lati e sempre si accresca quello intervallo che è tra esso e il predetto globo quantunque ciò accada troppo più lentamente di quello che si richiederebbe a voler che tali mutazioni fossero potute notare e conoscere dagli uomini massime così distanti queste cose o seriamente o da scherzo siano dette circa all'anello di saturno ora quel cangiamento che noi sappiamo essere intervenuto e intervenire ogni giorno alla figura della terra non è dubbio alcuno che per le medesime cause non intervenga somigliantemente a quella di ciascun pianeta come che negli altri pianeti esso non ci sia così manifesto agli occhi come egli c'è pure in quello di giove né solo a quelli che a similitudine della terra si aggirano intorno al sole ma il medesimo senza alcun fallo interviene ancora a quei pianeti che ogni ragion vuole che si credano essere intorno a ciascuna stella pertanto in quel modo che si è divisato dalla terra tutti i pianeti in capo di un certo tempo ridotti per se medesimi in pezzi hanno a precipitare gli uni nel sole gli altri nelle stelle loro nelle quali fiamme manifesto è che non pure al quanti o molti individui ma universalmente quei generi e quelle specie che ora si contengono nella terra e nei pianeti saranno distrutte in sino per dir così dalla stirpe e questo per avventura o alcuna cosa ciò somigliante ebbero nell'animo quei filosofi così greci come barbari i quali affermarono dovere alla fine questo presente mondo perire di fuoco ma per ciò che noi veggiamo che anche il sole si ruota di intorno al proprio asse e quindi il medesimo si deve credere delle stelle segue che l'uno e le altre in corso di tempo debbano non meno che i pianeti venire in dissoluzioni e le loro fiamme dispergersi nello spazio in tal guisa dunque il moto circolare delle sfere mondane il quale è principalissima parte dei presenti ordini naturali e quasi principio e fonte della conservazione di questo universo sarà causa altresì della distruzione di esso universo e dei detti ordini venuti meno i pianeti la terra e il sole e le stelle ma non la materia loro si formeranno di queste nuove creature distinte nuovi generi e nuove specie e nasceranno per le forze eterne della materia nuovi ordini delle cose ed un nuovo mondo ma le qualità di questo e di quelli siccome si andiò degli innumerabili che già furono e degli altri infiniti che poi saranno non possiamo noi neppur solamente congetturare e quindi e quindi e quindi Grazie a tutti